Ma se c'è una folla in questa pescheria Ma non mi sto confondendo ma Bì, guarda che belle banane che c'è su Bì, che faccio, domandiamo? Domandici tu che io mi affronto Senta, giovanottino E che sta parlando? Oh mia, che abbassate, siamo merino Perché a mezzo l'amore che arronghiano Senta Oh mia, sta parlando Con lei, con lei, ne hai di posto qua nella bancarella Sì, sì Senta, ma quando vienono ste belle banane E tre e due euro Bì, e che ce l'ho fatta Sì, sì E va bene Vienerà se tre Vuol dire che una ne ha mangiato Buonasera Buonasera Senta, il film che è cominciato Mi dà un biglietto per la tribuna Un biglietto per la tribuna? Mi scusi, lei è un cavallo Perché non si vede? Un cavallo che parla! Non si preoccupi Che quando cominci il film mi stai un moto È troppo, l'amore mio Come mi hai potuto lasciare le fiori della gioventù Dopo una vita insieme Togliato lo che pedo Non pare vivo? Non pare vivo? Ma sì Ma un governo mi sta parlando Permesso? Buonasera Buonasera Lei ha fatto benissimo A rivolgersi alla nostra agenzia Perché il nostro motto È un motto e un motto Spudiamo a vivo Sì, ma mi raccomando Sabe? Non voglio badare spese Perché questo rubale se lo perdava Questo rubale è stato tutto Per me Ora io ci voglio fare un funerale degno di un principe Ma che cosa dico un principe? Un re Passiamo alla prima offerta Cassa da morto interamente in noce tanganica Tre cuscini anatomici per eterno riposo Foderato interamente con seta pura Quattro maniglie in oro massiccio 24 carati e mezzo Con trasporto in Cadillac Con frigo bar incorporato Con autista completamente a lutto Neuro da faci e neuro nell'abito Insomma, un ducco E picchi e lei E non mi ce lo guarda manco un euro 10.000 euro 10.000 euro? Che ci parla, non sai? Che ci parla, non picca Io capisco che uno fa il funerale, insomma E fatto in grande stile Lussuoso Ma insomma, qualche cosa non ce la potevo lo guarda E che picchi lo sape? A sdrubale, certo Io era buono Ci siamo volute bene Ma insomma, ogni tanto Quando si arricogliava un briaco Cambiava a burdano Agliangata, attombolata Una volta mi rompivi i costi Insomma, va Non è che se mi rendeva tutto questo soldo spennuto Che se non mangiare i vetmi Scusi Non potevo fare il picco Seconda offerta Cassata morto interamente in noce nazionale Cuscine due Ce ne lo amo uno Foderato in velluto antiacaro Buona, ma così io metto una scianuta Maniglie placate in oro Per trasporto una bella Mercedes E come autista Un autista locale in divisa comunale E picchi e lei Non manluare ma un euro Cinque mila euro Cinque mila euro? Allora lei non ha capito niente Scusi E che ci parla, non sai? E lei che so picca Scusi Cinque mila euro oggi Per foscare cinque mila euro Scusi Che sacrificio che fare? Scusi 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 Passiamo alla terza offerta Cassa da morto in compensato multistrato Riciclato da ex cucina componibile Maniglie in alluminio anodizzato Sempre proveniente dalla stessa cucina Per cucina una bella cammarataria unchiata a due e otto Pizzasporto si affitta una bella lapo o fottino Io non metto a luare ma un euro Picchi e lei Mille euro Scusi Scusi Forse lei non mi sta capendo Io a sdruppare ci volevo bene Ma magari io sape qualche cunicchio ci faceva Evidentemente non è che ci amavamo a costa assai Ora mille euro Insomma Una volta che è morto Morto io va Sembra da Non potevo fare qualche cosa più picca A come ora sape mille euro non me la sei danni cile Abbiamo accattato ciore C'era stato spese Scusi Lei stesso Che ci parla ancora assai Che c'è tu che so assai Passiamo alla quarta ed ultima offerta Cassa da morto interamente intrusciolato Maniglie fatte con bello ferroflato Interamente foderato con catta di giornale Eh Boric Metteva la pagina del tuo sport Che non ci piaceva la pallone Piccino Bello cuticchione da fondaghello Per il trasporto Chiamo a mio cugnato Che aveva il bello 128 capriolè Per il pescello Ci aiuto io magari a caricare un toccofono E compresa il trasporto Compresa la benzina Non me lo guarda manco un euro 250 euro Senta Senta Scusi Ma dico Una cosa più picca Più economica Questa entrata Non si può culminare Paramo di chiaro Senta Io ci faccio l'ultima offerta Che lei non mi può fare negativa Se procurasse un bello sacco di munizia di 100 kg Sacco di munizia Se non ci capo Piegamo noi Ognuno Piegamo Io facciamo Da Inter Anzi Ci aiuto io Anche a caldo Da Inter Una bella carriola Si procura E con 15 euro Se non esce 15 euro 15 euro 15 euro bonus Buono Affare fatto Affare fatto C'abbia su 5 L'uva 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 Tutto noi Mi Umo Tu A strubali A buricisti Ora Dici anche Va Che ci vuoi Appero Cimitero Appero Cimitero 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 Cimitero